La nostra è una storia semplice ed ambiziosa. Da oltre 30 anni, TecnoMade Italia SRL offre a più di 2000 professionisti del settore dentale il meglio nella progettazione, produzione, assistenza e riparazione tecnica sia in Italia che in Europa. E non ci accontentiamo. Facilitare il lavoro dei professionisti del settore, snellire le procedure, puntare sul Made in Italy e sulle innovazioni è il nostro mantra. Dal nostro lavoro di ricerca costante sono arrivati prima i riuniti odontoiatrici Pretty & Kids, fatti su misura per bambini, poi Over, il nostro riunito odontoiatrico studiato, prodotto e assemblato totalmente in Italia. TecnoMade Italia offre soluzioni modulabili su misura come Handy Surgery, disponibile anche nella variante Softline, adattabile a 360 gradi a tutti gli studi professionali, sia in sala chirurgica che in sala di sterilizzazione, grazie alle tecnologie Sterinox e SGT. Proattivi. In ogni situazione, anche nel 2020, la ricerca TecnoMade Italia ha prodotto soluzioni efficaci, come Scudo, il sistema di protezione definitivo contro gli aerosoli in odontoiatria e di dispositivi per la protezione da rischio biologico SafeLine, pensati non solo per l'odontoiatria, ma adattabili ad ogni ambiente di lavoro per innalzare il livello di sicurezza anche oltre le porte degli ambulatori. TecnoMade Italia, un'equip di professionisti al tuo servizio. TecnoMade Italia, un'equip di professionisti al tuo servizio.